buonasera a tutti e benvenuti in questo video avete già capito ovviamente di che cosa staremo per parlare semplicemente il fatto che domani sera come appunto è stato scelto ci sarà la appunto la live alle ore 20 30 su ps4 con ciò già da stasera appunto ho pubblicato questo video per potervi fare già scegliere da adesso appunto i giochi che ci sono in elenco sei giochi però scegliere te ne scegliamo qualcosa di più giocheremo magari qualcosa meno chiaramente a ciascun gioco però più scelte perché i giochi sono davvero tanti quindi dovete sceglierne sei sei giochi che scegliete tra quelli in elenco e poi vediamo appunto quelli più votati quindi avete tanto tempo per votare più o meno 23 ore così quindi mi aspetto tanti commenti tanti e per cui insomma voglio arrivare almeno su 25 30 persone che commentano in modo tale che anch'io abbia una vasta scelta quindi ho un vasto voto ho più voti e quindi posso capire cosa mi piace di più e cosa mi piace di meno e appunto per le prossime volte capire quali magari potrei togliere quali poter mettere potervi mettere in difficoltà anche a voi e quindi così insomma ho bisogno tanti voti tanti giudizi da voi e niente questo è quanto quindi commentate nella descrizione ci sono tutti i giochi con le solite le solite descrizioni di che tipo è e voi commentate appunto il gioco che i sei giochi che volete io vi aspetto domani sera alle 20 e 30 e niente a domani ciao ciao